Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori portagioie. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi check out link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la SongMix Cofanetto Portagioielli. L'articolo che chiude le nostre proposte di acquisto è probabilmente il più completo e funzionale della classifica, ma purtroppo scivola in ultima posizione a causa della spesa proibitiva che non lo rende disponibile per tutti i piani di budget. Definiamo comunque che il prezzo elevato è convalidato dalla buona qualità dei prodotti utilizzati per la realizzazione di questo portagioie fashion e song mix che, oltre ad offrirgli una notevole resistenza all'uso e alle sollecitazioni, ne hanno di fatto reso il design estremamente gradevole e appropriato per qualsiasi stile d'arredo. L'esterno è rivestito in eco pelle bianca mentre gli interni sono rivestiti in morbido velour per proteggere i gioielli più delicati e fragili, che non correranno il rischio di graffiarsi o danneggiarsi. Le dimensioni della confezione, pari a 26x17x18 cm, ne consentono il posizionamento anche dove lo spazio offerto è limitato, offrendo al contempo una grande quantità di cassetti e vani per riporre senza problemi anche gli oggetti più ingombranti e voluminosi. Al numero 4, abbiamo Juek Pei, scatola musicale portagioie. Stai cercando un regalo da fare a un ragazzino vanitoso e amante dei gioielli? Dai un'occhiata al portagioie musicale alla moda di Juek Pei, fornito in un'affascinante scatola regalo preparata per essere scartata dal piccolo destinatario. I vantaggi e le caratteristiche sono tanti, a cominciare dall'esistenza di tre cassetti estraibili all'interno dei quali la bambina può riporre tutti i suoi dispositivi di richiamo, mentre lo specchio in dotazione la incoraggerà a prendersi cura di se stessa. Ma la vera particolarità del design è che quando si apre il coperchio appare una magnifica fata che inizia a ballare sulle note di una dolce melodia, donando alla cameretta della piccola donna un ambiente gioviale ma allo stesso tempo rilassante. Il prodotto è realizzato in legno di alta qualità e rifinito con vernici atossiche per tutelare la salute e la sicurezza dei bambini, ed è molto probabile che per questo abbia un costo leggermente superiore alla media. Al terzo posto, abbiamo la Ombra Stovit scatola portagioie nera. Ombra se è un portagioie fashion in legno attraverso il quale le donne più romantiche possono rivelare al meglio la loro natura femminile. È una bara accattivante con un design senza tempo ideale per qualsiasi camera da letto o toletta, con la possibilità in più di avere la possibilità di scegliere tra la versione chiara e color noce per abbinarsi facilmente al design del tuo spazio. Il coperchio a scorrimento laterale espone due scomparti foderati in velluto, con sezioni uniche per gli anelli, e un cassetto laterale extra per i più piccoli che vuoi scoprire velocemente se indispensabili. Alla base, invece, troviamo un vano più grande creato per oggetti ingombranti, come ciondoli e orologi, mentre manca uno specchietto che avrebbe facilitato la scelta della gemma da indossare senza dover andare altrove e sapersi specchiare. Nonostante la particolare leggerezza della struttura, l'articolo ha dimostrato di svolgere egregiamente il suo lavoro, ripagando il costo sostenuto per l'acquisto con un'ottima resistenza all'usura e ai segni del tempo. Al numero 2, abbiamo il Procase Portagioie Donna. Con uno stile semplice ma moderno, il Portagioie da viaggio di Procase è tra le offerte più accattivanti per chi ha un budget limitato. Le dimensioni ridotte gli permettono di trovare facilmente posto anche all'interno di un bagaglio particolarmente affollato, tuttavia nonostante questo lo spazio interno è ben organizzato per trasportare in sicurezza le vostre gemme senza il pericolo di trovarle attorcigliate. Il materiale che lo compone si è infatti dimostrato estremamente resistente e dispone di diverse sezioni per organizzare in modo ordinato i tuoi dispositivi, un ampio scomparto primario con tre divisori in velù removibili, sei bottone a pressione per i bracciali, due grandi tasche trasparenti con cerniera e tre più piccolo per ciondoli e anelli. Può essere difficile salvare gemme molto grandi e voluminose, considerando che il design ha ancora le dimensioni tipiche di un Portagioie da viaggio, quindi piuttosto minimale. Questo, infatti, è l'unico elemento che non ha convinto appieno gli utenti, sebbene la maggior parte di loro abbia apprezzato la praticità d'uso e la realtà che si può acquistare a prezzi contenuti nonostante l'ottima qualità generale. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Niche 3 Armadio Specchiera Portagioie. Secondo i punti di vista degli utenti, lo specchio per bigiotteria di marca Niche 3 è l'opzione perfetta per chi cerca un oggetto pratico e di classe allo stesso tempo, poiché è dotato di un anta e specchio a tutta lunghezza e di utili ganci che gli permettono di essere appeso al muro o alla porta. Il design necessario è lineare, però, non deve trarre in inganno, visto che al suo interno espone uno spazio molto ampio ed efficiente per conservare in maniera organizzata un'ottima varietà di oggetti. Oltre a tanti ganci per orecchini e pendenti, dispone di tre divisori in plexiglass per accogliere smalti, rossetti, matite e pennelli, così da poterti truccare facilmente davanti allo specchio senza dover passare da una stanza all'altra della casa per finire i tuoi vestiti. Per uscire. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale.